salve a tutti amici artisti e benvenuti in questo nuovo video se siete qui ci sarà un motivo il motivo è quello di crescere sulla piattaforma di youtube e raggiungere i primi mille iscritti in questo video vi spiegherò come raggiungere questo traguardo vi consiglio di guardare il video fino alla fine perché gli ultimi consigli sono quelli fondamentali per la crescita del vostro canale youtube quindi partiamo con il video consiglio numero uno condividere il video se volete raggiungere altre persone in modo da ottenere il più grande numero di spettatori possibili dovete condividere il video con amici e conoscendo il più possibile consiglio numero due la qualità dei video so che probabilmente molti di voi non vorranno permettersi attrezzi ultra lussuosi e di qualità buonissima ma si possono acquistare prodotti più economici e buoni di qualità i dispositivi con buona qualità audio video e poi usare programmi buoni per montare come adobe premiere pro avidemix eccetera consiglio numero 3 titolo e descrizione dei video quando caricate video prendetevi 5 10 minuti per pensare a titoli e descrizioni accattivanti in modo da ottenere il più gran numero di spettatori possibile consiglio numero 4 creare un trailer per il canale molti canali youtube mostrano il trailer in alto il riprodotto automaticamente quando visitatori giungono nel vostro canale dunque create un video accattivante in modo da mostrare visitatori non iscritti cosa possono aspettarsi da voi piccolo consiglio non fate durare il trailer più di un minuto perché lo spettatore vorrebbe annoiarsi invece potete fare il contrario essere semplici e strategici consiglio numero 5 la costanza su youtube bisogna essere costante nel caricare video e tenere costantemente attivo il canale se volete far sì che il vostro pubblico cresca e rimanga attivo sul vostro canale dovete caricare almeno uno o due video a settimana ed essere puntuali nelle date di caricamento questo vi aiuterà molto con la crescita del vostro canale spero che questo video vi sia piaciuto e spero che questi consigli possano aiutare con la crescita del vostro canale prossimamente caricherò un video su come ottenere 4 mila euro di visualizzazioni per attivare la monetizzazione detto questo grazie per la visione condividete commentate lasciate like e cosa è più importante iscrivetevi al canale al prossimo video ciao Grazie a tutti.